Professor Barbieri, quando si parla di lavoro atipico, di contratti a termine, di precarietà occupazionale, cosa si intende? Si intende un fenomeno che in Italia ha origine grossomodo dalla seconda metà degli anni 90 con la riforma Treu e che prevede l'istituzione di una serie di contratti di lavoro cosiddetti appunto atipici, ci sono circa meno di una cinquantina di tipi di contratti atipici ad oggi, in cui sostanzialmente non è certa la durata indeterminata del rapporto di lavoro oppure sono previste condizioni salariali più ridotte o comunque condizioni normative di tutela, di welfare eccetera, ridotte rispetto al contratto di lavoro standard a tempo indeterminato. Con lavoro atipico si riconnette l'insieme di posizioni dipendenti, indipendenti, in qualche modo sottoportete nel mercato del lavoro italiano. Dalle ricerche condotte in Europa emerge che i lavori atipici sono soprattutto dei trampolini, dei canali d'accesso al mercato del lavoro o sono piuttosto delle trappole nelle quali c'è il rischio di rimanere incastrati a lungo? È una bella domanda, il dibattito è aperto, quello che si può dire, che ad oggi sembra abbastanza definitivo come risultato di ricerca, è che il lavoro atipico può essere l'una e l'altra cosa e generalmente si risolve in un trampolino, comunque in un canale di accesso al lavoro più stabile nel centro e nel nord Europa, si risolve in una trappola invece in Italia, in Spagna, nei paesi mediterranei, per una serie di caratteristiche tipiche dei sistemi che stanno attorno al mercato del lavoro, i sistemi della formazione, i sistemi delle garanzie, ammortizzatori sociali, welfare, che negli altri paesi funzionano e che invece in Italia sono sostanzialmente inesistenti o di fatto insomma funzionano male e quindi lasciano il lavoratore atipico totalmente sguarnito, sprovvisto e di tutela, sussidi di disoccupazione, contributi pensionistici, nel momento in cui il lavoro atipico viene a cessare. Quindi oltre allo svantaggio di avere un lavoro atipico che in genere è sempre meno retribuito di un lavoro standard, la grossa differenza la fanno i sistemi di sicurezza accessori, che appunto in Italia sono il problema dei lavoratori atipici. Professore Nogler, ci sono tanti termini usati dalla sociologia e da altre discipline per definire un mondo molto ampio di lavoratori atipici di precarietà del lavoro. Da punto di vista giuridico, come va inquadrata la questione? Non esiste un termine codificato dal punto di vista giuridico per indicare questa area di sottoprotezione. Io direi che le problematiche sono sostanzialmente due. Ci sono molti rapporti di lavoro che hanno dei periodi di non lavoro. In relazione a questi periodi di non lavoro occorre mettere in campo politiche che garantiscono comunque un reddito a queste persone che sono fuori, ad esempio, dal meccanismo della cassa integrazione, che invece è garantita ai rapporti di lavoro stabile. La seconda problematica è che non tutti i rapporti di lavoro, nel periodo in cui sono in essere, per cui non si parla più del periodo di non lavoro, ma si parla del periodo di lavoro, garantiscono le stesse garanzie dal punto di vista previdenziale. Ad esempio i contratti di CoCoCo, dal punto di vista previdenziale, sono dei contratti decisamente peggiori rispetto ai contratti di lavoro subordinato. Quali politiche e quali misure sono necessarie per tutelare la dignità di ogni lavoratore e anche per contrastare quella che è la diseguaglianza sociale tra lavoratori? Sostanzialmente occorrebbero due linee di intervento. La prima linea di intervento è una tutela previdenziale uguale per tutti. Questo sia dal punto di vista della contribuzione previdenziale, non distinguendo più tra CoCoCo e contratto di lavoro subordinato. E in secondo luogo una riforma degli ammortizzatori sociali che consente di recuperare all'interno di questo strumento di tutela del reddito anche la fascia di sottoprotezione. In sostanza un aumento dell'indennità di disoccupazione che adesso è un istituto sostanzialmente residuale. Questo è il primo intervento. Il secondo intervento gioca sulla stabilizzazione del mercato. Noi adesso viviamo in un periodo storico in cui si è tornati ad una visione per cui le imprese possono farsi concorrenza anche giocando sulle condizioni di lavoro dei lavoratori. Per cui si partecipano gli appalti e si vincono gli appalti in ragione del fatto che si offre una tutela ai lavoratori minori rispetto a quella dei concorrenti. Bisogna tornare ad un'idea che esiste un minimo che comunque sia e deve essere garantito da tutti. grazie a tutti. Grazie.